Benvenuto alla presentazione di PASE, il percorso di accoglienza per studenti stranieri. L'Università di Brescia, in collaborazione con l'Università di Bergamo, ti offre la possibilità di migliorare il tuo italiano online. Per accedere al PASE, clicca su Login ed inserisci Username e Password. Sei entrato nell'area e-learning dell'Università. Ora, clicca su Altri corsi, CIS e CIS Online. Bene, siamo entrati nel percorso di accoglienza per studenti stranieri. Prima di cominciare le attività, se vuoi, puoi fare il test online di autovalutazione, per vedere qual è il tuo livello di italiano. Dopo aver fatto il test, vai nella sezione Imparare l'italiano, dove trovi esercizi di lingua italiana per tutti i livelli e le abilità. Se sei uno studente di livello basso, ti consiglio di visitare l'area per cominciare. In quest'area, trovi i percorsi didattici per comunicare nelle più comuni situazioni quotidiane, al bar, in albergo, in stazione. Come vedi, le istruzioni sono in italiano e in inglese. Proviamone una, in stazione. Come vedi, ci sono diversi tipi di attività. A volte devi abbinare una parola a un'immagine. Altre volte devi completare una frase. Oppure devi ascoltare un dialogo e rispondere vero o falso. Per ascoltare il dialogo, clicca sul triangolino blu. Puoi ascoltarlo tutte le volte che vuoi. Quando hai finito tutte le attività, clicca su Invia per vedere il punteggio totale che hai ottenuto. Torniamo indietro e torniamo al menu principale. Nella sezione Imparare l'italiano, trovi attività di ascolto, di lettura, di grammatica, attività per comunicare, attività di ortografia, di scrittura, divise per livello di competenza. Se per esempio vuoi fare attività di lettura, seleziona il tuo livello. Leggi il testo e poi vai agli esercizi. Il percorso di accoglienza per studenti stranieri ti mette a disposizione molti strumenti. Oltre all'attività di lingua, hai a disposizione una e-grammatica. Se hai bisogno di consultare una grammatica, clicca qui. Ti ricordiamo inoltre che due ore alla settimana è attivo un ricevimento online via webcam e chat che ti permette di interagire con una docente di lingua italiana a stranieri. L'Università di Brescia e l'Università di Bergamo ti augurano un buono studio dell'italiano. C'è un'altra attività di lingua italiana a stranieri che non andrà un buono studio dell'italiano.